. . . . . . La serie è composta da 14 episodi di 130 minuti l'1. Molto probabilmente nel nostro paese la durata sarà ridotta a 45 minuti per poter portare il numero di episodi a quota 42. MR Vrong partirà su canale 5 tra maggio e giugno, al momento non è stata ancora comunicata la data ufficiale. Stando però ai palinsesti Mediaset divulgati nei giorni scorsi dovrebbe andare in onda ogni venerdì sera. Dunque, Kanyaman è pronto a tornare in prima serata. MR Vrong, titolo originale by Yanlis, è già stata trasmessa con successo in Turchia e Spagna. Per il ruolo di Ocon Dieresi ZGU con Dieresi R Kanyaman ha imparato a suonare la batteria e a ballare il tango. Sul set poi è cresciuto il feeling con Odje Gurel, i due sono ottimi amici. L'attrice è felicemente fidanzata con la star di Cerris e Asun Serkan Kayoglu. Grazie per la visione!